Stop ai concerti nella riserva di Punta D'Erci, stop alle discoteche all'aperto. Voi avevate denunciato quanto era accaduto nei giorni scorsi, De Santis. Sì, in realtà anche comitati locali, associazioni locali avevano avvertito il comune dell'errore di fare concerti addirittura con i DJ dentro una riserva naturale, una perla dell'Adriadio come Punta D'Erci, un posto che dovrebbe essere contraddistinto dal silenzio, da una visita rispettosa dei luoghi. Addirittura in tutte le aree protette del mondo non si può lasciare i sentieri. Perché? Perché le aree protette vengono fatte per la fauna e la flora. Noi abbiamo già occupato il 90% del litorale abruzzese, lo abbiamo antropizzato. Praticamente queste sono le zone di rifugio per la fauna e la flora e dove andare in maniera rispettosa, bisogna fruirle, però non si può pensare di creare degli stadi all'aperto con il disturbo alla fauna e il calpestio. Là c'è una vegetazione molto particolare. Ecco, immaginare migliaia di persone che vanno lì senza rendersi conto, calpestando questa vegetazione crea dei danni anche persistenti. Ora, a nostro avviso è stato un errore organizzare questi concerti, meno male che all'ultimo, davanti a delle immagini inequivocabili, anche rispetto al Covid, distanziamento assolutamente assente, c'erano assembramenti. Ecco, una condizione di gestione scorretta di un patrimonio unico che noi abbiamo. Diciamo, quello che si aspetta è un visitatore che viene da fuori. Trovare silenzio, trovare calma e informazioni, servizi all'altezza, guide naturalistiche. Questo noi dobbiamo sviluppare. Ecco, a noi preoccupa però, al di là di questi concerti che adesso hanno avuto giustamente uno stop, preoccupa la gestione che il Comune di Vasto vuole fare alla riserva di Punta Derci. Quello è un luogo dove ormai si è trasformato in un posto, un vero e proprio, diremmo, carnaio. Ecco, forse dovremmo pensare, come si fa in Trentino per esempio, anche al numero chiuso, anche a un obolo magari per avere dei servizi però all'altezza.